ha messo fuori, rimesso in gioco di Damiani per Antonioni che salta molto bene il suo uomo ancora Antonioni in area, ancora Antonioni, tiro perfetta azione di Antonioni che ha mancato soltanto Mentre sul calcio d'angolo battuto ad effetto come usa con il numero 13 Eftimov sul calcio di Muniz stava lanciandosi in avanti Causio, è intervenuto Maref in scivolata, ha messo fuori, l'ha rimesso in gioco il cross di Damiani proprio a fil di traversa e deve salvarsi in calcio indietro a Causio, ma è Santarini che ha toccato ancora per Causio bello l'appoggio su Rocca che attacca a sorpresa teso il suo cross, colpo di testa di Borinsegna Antonioni Borinsegna Chiarugi Chiarugi deviazione del portiere al limite del regolamento, è una partita più combattuta che giocata Isakidis Eftimov era già sul fondo la palla era già sul fondo la palla prima del passaggio indietro di Zvetkov ad ogni modo non giocata Rangelov pallone teso per Zvetkov Korbanov e Parazov il c'è da arretrare la barriera di un paio di metri Chiarugi il calcio di punizione è diretto, è di prima ha tirato Ierugi Rececconi ha finto il tangolo Antonioni Geliaskov che tenta il tiro lontano e la palla termina fuori